Kenya. Il coronavirus è oggi nelle baraccopoli. Le regole per difendersi sono impossibili. Mantenere la distanza? Impossibile in una baranca. Scuole chiuse? Impossibile mangiare. Igiene? Impossibile se lavori in una discarica. Noi cerchiamo di fare l'impossibile. Un pasta al giorno per 2000 bambini e il controllo della salute. Dacci una mano. Con il tuo aiuto, con le tue donazioni, con il tuo volontariato, sottoscrivendo il nostro 5x1000 puoi aiutare tanti bambini. Grazie.